Cominciamo con la riete. Consigliatevi con un collega fidato se percepite aria di cambiamenti e studiate delle strategie per non farvi trovare impreparati. Alla base del nervosismo che vi pervade c'è qualche ricordo del passato. Toro, buone notizie sul piano professionale. Seguite senza esitazioni l'intuito. Vi suggerirà le mosse migliori per trarne dei vantaggi. La situazione è in evoluzione ma bisogna saperla gestire con metodo. Gemelli, giornata decisamente positiva per tutti i tipi di situazioni. Non mancheranno piacevoli sorprese, incontri, nuove conoscenze e amicizie. Gestite meglio i vostri soldi. Cancro, non è giornata per mettere in campo progetti ambiziosi. Limitatevi ai compiti di routine. Il vostro piuto oggi non ve la conta giusta. Lo stress si insinua anche tra le pareti domestiche. Attenzione! Leone, buone le capacità organizzative e relazionali da spendere per entrare in contatto con persone utili per le vostre ambizioni professionali. Pianificate spostamenti e viaggi previsti in settimana. Un tranquillo confronto con la persona amata si risolverà per il meglio. Vergine, è finalmente arrivato il momento di godere di meravigliose opportunità, quelle che gli astri un po' avari vi hanno lesinato negli ultimi mesi. Bilancia, è necessario fare leva sulle vostre capacità di adattamento per adeguarsi agli inconvenienti e ai cambiamenti repentini. Il partner non vi abbandona, ma nella confusione rischiati di fare di tutta l'erba un fascio e della persona amata un capro espiatorio. Scorpione, il ritorno alla routine vi vede un po' pensierosi, forse avete dovuto riprendere in mano una questione controversa o una pratica complicata. Sagittario, le difficoltà che incontrate nel rapporto con i colleghi possono nascere da una allarvata insofferenza. Un amore iniziato in viaggio invece e salutato con un po' di tristezza tornerà a farsi vivo prendendovi in contropiede. Capricorno, un temporaneo calo di lucidità e di entusiasmo non resta preoccupazioni, mentre la vostra suscettibilità potrebbe provocare danni seri. Acquario, cercate un confronto costruttivo con gli antagonisti per fare chiarezza su questioni irrisolte e formulare progetti più articolati. Se siete single oggi potrete raccogliere qualche gradita conferma in un'avventura intrigante. Pesci, evitate un braccio di ferro. In ambito lavorativo sta per arrivare anche per voi l'ora di riscuotere meritati successi. Una gita con la famiglia è prevista. Una pausa di riflessione potrebbe produrre dei buoni frutti in termini di intuizioni e soluzioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.